Qua parte, ragazzo entra dentro, apre la porta, dice qualcosa, torna indietro, e chiama raccolta tutte e quattro, e scatto, vai vai, stacca, qua ritorna facendo tutto il giro, eccolo, qui cerca di scappare, qua è buio, è angolo giusto, quindi scappa di qua, quindi è un altro di faccia, eccolo qua, torna indietro, sta qua, torna indietro, e inizia a essere picciata fino a qua, che continuano, cercano di piedi al paletto, non ci riescono, e il ragazzo riesce a scappare, chiudiamo, ok, qua il ragazzo torna indietro, che si è fatto male, eccolo qua, gli amici tornano, lo minacciano ancora, tornano ancora, cercano di allontanarli nell'ascensore, questo si va a mantenere ancora, e continua a minacciarlo, lo prendo, e lo mettono all'ascensore, e poi devi lavorare, e poi dopo devi lavorare, appunto, sì. Allora 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 Allora